Ho visto cose sconvolgenti che mi hanno fatto capire che non viviamo più nell'incontaminato giardino dell'Eden. Siamo già nel secondo pannello, che Bosch definì l'umanità alla vigilia del diluvio. La prospettiva più agghiacciante è rappresentata dall'ultimo pannello, con le pianeta che l'umanità ha ridotto in cenere. Riusciremo a cambiare rotta prima che sia troppo tardi. Se fosse un film potremmo riscrivere il finale della sceneggiatura, immaginando una possibile via di fuga. Ma la vita reale funziona diversamente e nessuno può prevedere con certezza che cosa accadrà. Eppure, noi tutti fumo avvisati, ma già si sapeva non siamo cambiati. Mi trovi sulla scogliera, aspettando la fine della nostra era. In tutto ce lo meritiamo, siamo la merda che noi consumiamo. Vedi tuo figlio morire di fame, che bella la balla che gli hai raccontato. Quella che tipo potrà avere tutto, è brutta. Ma non ci pensiamo, mangiamo, sprechiamo, inquiniamo, brindiamo, dai festeggiamo e dopo vediamo. Non è la questione progresso regressa, è natura umana. Vogliamo di più, di più, si sempre di più, perché non appaga. Guardati intorno, abbiamo pittura, cultura ed architettura. Onnipotenti pensi finché non cade l'impalcatura. Possessionati dalla forza della resilienza, alla deriva della nostra indelicenza. Qui si dispensa la diligenza, chi ci controlla con reticenza, chiudiludienza con impazienza, sarà una lotta di sopravvivenza. At the edge of the world, e di esseri umani. At the edge of my mind, D di Dio è morto. At the edge of the world, G di giorni con dati. At the edge of the time, ed è finita. Penso alla vergogna che proveremo, quando i nostri figli e i nostri nipoti capiranno che noi avevamo la possibilità di fermare questo scegliere, ma che semplicemente non c'era la volontà politica di fare. Da Decapul, Seul e tutta l'Afghanistan, la terza guerra mondiale per l'acqua inizierà in Pakistan. E' solo il principio il petrolio in Iraq, fanno la trappa vestiti col frac. Bam! L'economia mondiale che va in fumo, tutto in crack. La via della seta è un red carpet, verso il forte della Cina. Meglio che ti guardi per le spalle, non stai in un film, ma terra a Cina. Questo è il far west della cosca, cos'è l'omertà? Cosa nostra non deve volare, è più una mosca. E di esseri umani, D di Dio è morto, G di giorni contati, E di è finita. E di esseri umani, D di Dio è morto, G di giorni contati, E di è finita. Le future generazioni potranno lodarci, oppure denigrarci. Noi rappresentiamo l'ultima speranza della Terra. E' il nostro dovere proteggerla, o per noi, e per tutte le forme di vita che amiamo. E' la fine.